Già noto fin dal 1922, un particolare curioso presente su un quadro di Caravaggio dedicato a Bacco dipinto intorno al 1596 attira la nostra attenzione. Solo però più recentemente si è potuto, grazie all'utilizzo di tecnica evoluta, meglio visivamente apprezzare e studiare. Poco più di una sagoma, un personaggio maschile in posizione retta con un braccio sporgente in avanti e un cavalletto o una tela di scorcio, raffigurato sulla brocca contenente vino, rappresenta l'artista nel momento in cui sta dipingendo l'opera. Grandi orbite oculari, naso a base larga e un poca musa, labbra carnose e semi aperte, è la descrizione di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio.